salve a tutti oggi vedremo come progettare una casa di campagna partiremo da alcune slide introduttive che potrete anche scaricare dal link presente in descrizione fino alla realizzazione di un modello 3d con un software bim inoltre volevo ricordarvi che potete scriverci nei commenti se avete dei dubbi delle domande o anche dei suggerimenti per nuovi temi che vorreste fossero trattati nei prossimi focus vi consiglio anche di iscrivervi al nostro canale youtube per essere sempre aggiornati ma iniziamo prima di iniziare la progettazione è sempre necessario consultare la normativa locale e quella nazionale relativa all'abitabilità all'accessibilità e visitabilità agli standard urbanistici nonché il testo unico per l'edilizia il codice civile a livello locale invece lo studio comprenderà in particolare l'analisi dei parametri edilizi relativi a distanze dai confini dalle strade superficie coperta e fondi aria volume edificabile altezza massima realizzabile indice di edificabilità fondiare e territoriale oltre al quadro normativo di riferimento bene seguire anche delle regole di buona progettazione come ascoltare le esigenze e le richieste dei committenti scegliere uno stile che risponda al gusto degli utenti al carattere del luogo distribuire le funzioni in base all'orientamento gestire il soleggiamento con vetrate schermature progettare anche gli spazi aperti scegliere materiali idonei al clima e all'ambiente naturale e prevedere fonti di energia rinnovabile nel caso pratico che proponiamo vedremo un progetto caratterizzato da grandi vetrate logge coperte giardino con piscina materiali della tradizione volume scultorio dal gusto contemporaneo e ora vediamo un progetto realizzato con edificius il software bim per la progettazione architettonica con l'oggetto involucro verticale tracciamo i muri perimetrali dell'edificio e i tramezzi interni inseriamo le ampie vetrate con l'oggetto facciata continua aggiungiamo anche le finestre e analogamente tutte le porte interne modificando dimensioni e geometria dalle proprietà ripetiamo le operazioni per costruire anche la pianta del piano primo per completare il volume disegniamo la copertura con l'oggetto tetto tracciamo il perimetro della copertura e dall'editor definiamo le falde e regoliamo la pendenza individuando tre punti sulla superficie del tetto terminiamo l'operazione e dalla vista 3d visualizziamo il modello nella sua interezza per verificare le nostre scelte progettuali aggiungiamo dettagli al modello assegnando i materiali a tutte le superfici scegliamo una pietra appena sbozzata per i muri del giardino un intonaco frattazzato di color grigio seta per la facciata del piano primo e gli stelle in legno per le pareti del portico dall'ambiente terreno aggiungiamo la piscina tracciando il perimetro con l'apposito oggetto e la vegetazione anche le essenze arboree possono essere scelte dal ricco catalogo di edifici con un semplice click torniamo all'ambiente architettonico e completiamo il modello aggiungendo la scala interna dall'editor componiamo la scala con rampe e pianerottoli a cui assegniamo le dimensioni dalle proprietà ne cambiamo anche il modello scegliendo una scala in metallo su travi portanti infine aggiungiamo gli arredi per dare al progetto il carattere desiderato dalla vista real time rendering possiamo navigare nel modello ed avere una percezione realistica del progetto dalla scelta dei materiali alla suddivisione degli spazi fino alla scelta degli arredi apportando se necessario anche modifiche in tempo reale con questo è tutto vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i link utili che vi consentiranno di leggere l'articolo di approfondimento scaricare le slide di progetto che abbiamo visto all'inizio del video scaricare anche tutti i file del progetto e la versione trial di edificio con cui aprire i file io vi ringrazio vi auguro buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo video